benvenuti su git bar il podcast dedicato al mondo dei full stack developer in mezzo artigiani mezzo artisti che ogni giorno infilano le mani nel fango per creare nel modo più efficiente possibile quei prodotti digitali che quotidianamente usiamo bene benvenuti in questo nuovo episodio di git bar oggi abbiamo un fantastico ospite con noi lo aspettavo da un po ma finalmente ce l'abbiamo qua nel nostro bar comunque manda le ciance vi ricordo rapidamente i contatti e partiamo info.gitbar.it è il nostro gruppo telegram che ormai conoscete benissimo cui nome è git bar detto questo una piccola pausa e partiamo subito con l'episodio di oggi eccoci qua con me ho luca molteni vi dico solo che è un functional developer e quindi già a prescindere mi sta simpatico no voi ormai sapete che sono in fissa per la programmazione funzionale pur non capendo né niente e quindi chi meglio di lui può aiutarci e aiutarmi quindi faccio uso del tutto personale del podcast in questo episodio nell'esplorare questo mondo che è molto interessante soprattutto ci propone un esercizio di sforzo mentale per uscire da quella che è la nostra zona di comfort ciao luca come stai ciao mauro tutto bene grazie grazie di avermi invitato al tuo podcast e scusami per il ritardo con cui siamo riusciti a registrare questa puntata a questo punto guarda non c'è nessun tipo di problema l'aspettavo con ansia è presente come si aspetta la partita del della domenica no con la sciarpa e con la con la con la tuta e la stesso allo stesso modo ti aspettavo luca ti faccio subito una domanda ma chi è luca molteni e cosa fa nella vita bella domanda luca molteni è un poveretto è assolutamente un poveretto ma io sono un programmatore ormai è 15 anni che faccio questo lavoro e non fare il modesto però eh ti prego non è che io non è che faccio il modesto io sono veramente un poveretto cioè ormai pensaci è 15 anni che faccio questo lavoro ma in fondo non so fare nient'altro nella vita pensa siamo in due se ci togliessero questo lavoro noi non sapremmo cosa fare quindi siamo solo dei poveretti no io sono un appassionato di programmazione che è stato molto fortunato sono stato molto fortunato perché ho avuto un mentore che mi ha insegnato la programmazione e questo mentore incidentalmente era appassionato di programmazione funzionale e quindi mi ha potuto insegnare direttamente la programmazione la programmazione tutta la programmazione ovviamente siamo finiti a parlare della programmazione funzionale e io credo che in questo ambiente avere una persona che ti segua sia un qualche cosa di importante è una figura che ancora forse non è diffusissima e io sono stato veramente fortunato ad averlo tu hai parlato di mentore no dal tuo punto di vista qual è il ruolo del mentore nell'introdurre una persona non tanto a un linguaggio ma anche un paradigma un modello di pensiero che infatti è quello che appunto la programmazione funzionale guarda il ruolo del mentore è importantissimo secondo me soprattutto nel riconoscere ovviamente le potenzialità di una persona ma soprattutto a superare tutta quella serie di pregiudizi che ci andiamo a creare su noi stessi sul fatto che non ci meritiamo di poter fare i programmatori magari la famosa sintoma dell'impostore quella di cui si parla spesso in questo periodo oppure il fatto che ad esempio c'è questo pregiudizio secondo quale la programmazione funzionale sia solo per appunto matematici o solo per universitari che è un pregiudizio fondato d'altra parte come la maggior parte dei pregiudizi deriva sempre da un qualche cosa di vero giusto il pregiudizio di per sé non è vero ma all'origine il fatto che comunque la ASCEL o comunque altri linguaggi di programmazione funzionale vengano dall'accademia ha generato un po' questo mito in più c'è un discreto feticismo verso l'utilizzo di termini che vengono dalla matematica o comunque dalla teoria delle categorie che ovviamente questo non aiuta e appunto nel mio caso specifico avere un mentore che mi spiegasse che mi raccontasse queste cose come se fossero la cosa più normale del mondo come se stessimo parlando di che cosa abbiamo mangiato ieri sera ma invece si parlava di programmazione funzionale di perché no diciamolo di mona di anche concetti avanzati per me è stato molto importante perché appunto nell'individualità si esprime anche un certo tipo di relazione che non puoi ottenere dall'università non puoi ottenere da un corso su Corsera così adesso lo faccio non è che per fare pubblicità alla mia azienda però ad esempio io adesso lavoro in Red Hat ed è un'azienda grande comunque un'azienda americana che ha tanti sedi così e loro hanno internamente un programma di mentoring e si sta sviluppando anche questa cosa in tempi recenti ed è interessante secondo me perché noi partiamo un po' dal mito che il programmatore con i soli corsi online puoi imparare tutto giusto vai su Corsera ti fai il corso su Scala lo scorso su Scala su Corsera è stato famosissimo quello di Odeschi no? era fatto da Odeschi in persona infatti andavi lo facevi così però ovviamente c'è così tanto materiale così tanti blog post così tante conferenze che è anche difficile capire esattamente da dove partire da dove non partire e poi metti caso che ti ritrovi in quel materiale in cui proprio non ti ci trovi perché è troppo difficile proprio non capisci niente magari ti trovi un paper esempio questa cosa succede spesso in Haskell ti dicono il modo migliore per capire argomento X è andarsi a leggere il paper originale sì tu prendi il paper originale lo leggi e non ci capisci niente per quello che prima ti dicevo che sono un poveretto io non ho fatto io non ho fatto informatica ho fatto un sottocorso di informatica alla statale di Milano e mi rendo conto che non ho necessariamente familiarità con un certo tipo di pubblicazioni scientifiche soprattutto quelle che vengono dall'informatica però questo non vuol dire che non sia riuscito a utilizzarle e utilizzare la programmazione funzionale con successo in produzione e anche a fare un minimo di divulgazione questo è il messaggio che mi piacerebbe portare cioè anche se uno si sente che non è abbastanza bravo per fare un certo tipo di cose non è vero sono tutti i pregiudizi mentali che andiamo a crearci la programmazione funzionale è alla portata di tutti ha semplicemente un pregiudizio legato all'accademia che dobbiamo sapere che esiste e dobbiamo saperlo un po gestire vero assolutamente sì il 6 è il side effect che dobbiamo mettere all'angolo quello che poi poi ce lo racconterai ma esatto questa infatti era 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 una sorta di spoiler no quello che dici lo condivido al 100% anzi lo dicevo l'altro giorno che ero ospite in un altro in un altro podcast dicevo che il fatto di avere un mentore ti dà la possibilità di apprendere le cose al tuo ritmo cosa che invece internet e i corsi online spesso non ti danno perché perché i corsi online hanno un primo un primo problema che è quello che hai detto cioè quello di orientarti nella giungla fitta delle risorse che trovi il problema di internet è che sta diventando sempre più vasto per fortuna di informazioni però orientarsi tra tutte queste informazioni diventa complesso e là entra in gioco il mentore che ti dice non perdere tempo con questo forse ti conviene puntare il focus su quest'altro e poi c'è il fatto che avere un mentore hai quella velocity col mentore tarata su te stesso nel senso che se io per capire adesso lo dico perché è una cosa che ho già detto un seno la funzione seno o la funzione coseno ho bisogno di un omino che cammina sulla sinosoide che rincorre la donna che cammina sulla sul coseno per capirlo ho bisogno di questo il mentore che ho davanti capisce quanto deve semplificare quel livello d'astrazione quanto deve trasformare in un concetto concreto e te lo fa ma lo fa in funzione di quello che sai tu di quello che che è il tuo modello d'apprendimento e secondo me è questo veramente il jolly da giocare ma dal tuo punto di vista ad oggi oltre alla parte insomma del del velo accademico che sta sulla programmazione funzionale che già incute questo timore reverenziale verso il mondo quali sono gli elementi di complessità oggettivi fisici del del paradigma stesso programma di programmazione funzionale allora personalmente questa è la mia opinione sono convinto che il problema principale nell'approccio alla programmazione funzionale è proprio il pregresso che abbiamo di programmazione procedurale io sono assolutamente convinto che se la programmazione funzionale fosse il primo paradigma di programmazione che viene insegnato a un neofita o comunque all'universitario non avremmo veramente questo problema di approccio all'inizio perlomeno non avremmo più problemi nell'approcciare la programmazione funzionale di quanti non abbiamo avuti a approcciare la programmazione procedurale purtroppo veniamo da un contesto storico in cui la programmazione procedurale per motivi storici ha avuto un'importanza più è stata più importante rispetto alla programmazione funzionale la programmazione funzionale anche se è antecedente alla programmazione procedurale è stata ignorata per la larga parte del tempo del boom economico dei computer semplicemente perché era troppo lenta esistevano le smart machine esistevano implementazioni programmi di linguaggi funzionali ma erano semplicemente troppo lenti e giustamente non avevamo la quantità di transistor per poterlo usare in modo efficace adesso che ci possiamo permettere di sprecare cicli di clock stavo per fare una battuta brutta ma poi la battuta è comunque utilizzare le web application oggigiorno io la vivo un po come uno spreco di clock stiamo utilizzando dei computer veramente al minimo delle loro potenzialità perché utilizzare questi processori potentissimi che abbiamo nei nostri telefoni le nostre macchine per utilizzare delle cose renderizzate sul server e mandarle in quello che è definito internet sostanzialmente un debug mode perché tutto in chiaro tutte cose così secondo me è uno spreco assoluto di energia proprio elettrica stiamo proprio sprecando il mondo e questo ce ne renderemo conto infatti adesso oggi giorno si parla di green computing cose di questo genere comunque oggi siamo proprio nella fase di spreco no i nostri tower hanno alimentatori da 300 watt 600 watt che utilizziamo per generare codici per inventarci delle valute cioè siamo proprio in una situazione bruttissima di spreco comunque in queste situazioni di spreco non si può più dire che i linguaggi di programmazione funzionale sono lenti che era la critica numero uno con cui non utilizzavano i linguaggi di programmazione funzionale tipo lisp non so negli anni settanta negli anni ottanta quando si programmava tutto sai con i linguaggi di basso livello tipo il c così così vero qui beh il paradigma funzionale porterà poi dei vantaggi che proprio in termini di performance che racconteremo che racconteremo poi per cui da questo punto di vista tu dici noi possiamo approcciare alla programmazione funzionale se smettiamo di guardarla come il mostro o la cosa complessa e iniziamo a dire ok è il mostro la cosa complessa divide e ti impera prendi il primo pezzettino prova a capirlo poi vado al pezzettino 2 e proverò a capirlo e mi piace tantissimo quello che hai detto la programmazione funzionale se noi l'approcciassimo come primo paradigma sarebbe semplicissimo perché è legato veramente a alcuni concetti mi vengono in mente che ne so i tipi algebrici che sono alla base davvero della matematica più spicciola che impariamo alle elementari cioè somma e prodotto assolutamente ma si può anche fare un passo prima scusami se ti interrompo ma senza entrare nel sistema di tipi ignoriamo un secondo il sistema di tipi prendiamo una programmazione funzionale non tipata proprio quella dell'ISP il concetto di funzione per quanto venga dalla matematica però come dici giustamente te la funzione arriva abbastanza presto nel corso di studi di un minimo di scuso di matematica il concetto di funzione è semplice non facile ma semplice non facile perché comunque richiede un certo sforzo da parte delle persone per capirlo ma una volta che l'hai capito il concetto di funzione è quello ed è esattamente il concetto di funzione che atteniamo dalla matematica certi concetti che vengono dall'obgetto oriented programming invece per fare un paragone sono complessi magari più facili cioè un po' questa ortogonalità tra semplice e complesso e facile e difficile quindi l'OP magari può sembrare più facile da approcciare all'inizio ma ha un bagaglio culturale così importante così complicato che l'OP non è semplice è complicata cercare di spiegare cos'è una classe di oggetti stanze di oggetti metodi che passano tra oggetti pattern e tutte queste cose qua è tanta roba quando invece dall'altro lato è una funzione che è una funzione che una volta capita c'è semplicemente la funzione non c'è niente altro hai finito io mi sono dato una spiegazione perché giustamente ho sbattuto la testa al muro i primi giorni quando provavo a capire e sono partito dal concetto di funzione cioè la funzione è qualcosa che gli entra un dato in ingresso e sputta uno o x dati in uscita meglio uno però la programmazione oggetti invece è un oggetto che ha proprietà metodi fermiamoci qua ok quando noi guardiamo queste due cose la funzione ci viene spiegata insegnata in quanto concetto astratto certo invece quando veniamo introdotti siamo accompagnati nel mondo della programmazione oggetti la prima cosa che ci dicono e che mi hanno detto anche a me ok la classe è la mia macchina ok la macchina ha i sedili la proprietà sedile e il metodo accelera adesso sto banalizzando però c'è subito la relazione all'elemento concreto all'elemento concreto che butta sul cestino quel livello d'astrazione ed è un po' come l'omino che dicevo prima che cammina sulla sinusoide certo cioè è una salita è una discesa invece la funzione e tutti i concetti che ne vengono dopo della programmazione funzionale perché fino alla funzione diciamo che ci possiamo arrivare però quando entri nel mondo delle monadi o delle operazioni algebriche sui tipi beh a quel punto dici ah che roba è perché non hai un modello mentale io vivo di metafore i ragazzi e le ragazze del podcast lo sanno e se non esiste una rappresentazione concreta per me è un problema andarlo a capire la cosa però niente semplicemente per me la difficoltà vera che sta alla base del concetto di programmazione funzionale tolto il velo accademico è proprio questo nella tua esperienza come si può affrontare questo livello d'astrazione? eh questa è proprio una bella domanda per quello che dici te è assolutamente senso l'insegnamento tradizionale di OOP quello che ho ricevuto anch'io passa da appunto l'utilizzo di metafore del mondo reale e quello è vero il problema di questa cosa sono due il primo è che non sono sicuro che nell'idea originale di OOP ci fosse questo proprio questa idea del mondo reale noi facciamo l'esempio della macchina Lankey faceva l'esempio delle cellule mi sembra che si scambiavano messaggi si è perso un po' il concetto iniziale di OOP presto OOP è diventato quello di C++ e Java e C Sharp e così così OOP originalmente è nato con Small Talk OOP è nato senza tipi banalmente erano proprio queste entità che si scambiavano oggetti senza tipi e poi quando tu vai a chiedere a un neolaureato non è colpa sua ovviamente quello che gli insegnano che cos'è OOP lui ti dice OOP è quel paradigma basato sui concetti di incapsulamento ereditarietà e polimorfismo cosa che è una definizione accademica ma che non ha nessun senso e anche storicamente è anche errata perché anche quando ha creato Small Talk non aveva né in mente Java e non aveva né in mente C++ queste sono parole testuali sue quindi proprio l'esempio di OOP che hai definito te quello dei tipi non era neanche nell'idea iniziale di OOP e se ci pensi se c'è già una dissonanza così alla base come si può ottenere qualcosa di buono io ultimamente negli ultimi anni sto parlando male di OOP e mi dispiace un po' perché appunto si suona sempre un po' elitare quando si parla male di una tecnologia eppure tra l'altro è una tecnologia che ci sfama io lavoro in Java tutti i giorni quindi è anche ingiusto nei confronti di OOP d'altra parte un tentativo di cercare di capire insomma le basi di OOP sono difficili secondo me è emblematico che dopo anni decenni che utilizziamo OOP ancora non ne capiamo le basi e di questo ne ho parlato mi spiace per lo shameless plug ma ne ho parlato in un altro talk dove parlavo dei vari tipi di polimorfismo tra l'altro ti interrompo un attimo mi mandi il link così lo mettiamo nelle note dell'episodio se è pubblico se c'è un video se è qualcosa fortunatamente io non ho fatto tanti video online quindi puoi pure mettere tutti volentieri sono tipo tra quattro e ne ho parlato in un altro in cui appunto ho parlato dei vari tipi di polimorfismo in cui che è una cosa che un po' mi ha ossessionato negli ultimi anni che appunto dire che il polimorfismo fa parte dei principi basi di OOP è anche errato visto che anche altri sistemi che non sono OOP hanno il concetto di polimorfismo anche se è un concetto diverso e quindi appunto questa idea che hai citato te quella della macchina di oggetti orientati dei programmi si scontra un po' con la realtà di utilizzare il linguaggio di programmazione durante il giorno perché l'esempio della macchina o del triangolo l'altro esempio classico il triangolo quadrato quando fanno vedere i limiti di OOP non c'entra niente con la programmazione originale scusate con la programmazione moderna al lavoro quando tu vai al lavoro non devi modellare una macchina non devi modellare una figura un quadrato un rettangolo devi definire devi modellare non so un'interazione con un database e come la modelli in definizione con un database quando tu ti fai tutto un film sul quale tu hai degli oggetti concreti e degli oggetti concreti li devi mappare le tabelle di un database per fare un esempio ma ti rendi conto che c'è proprio un errore un errore di impedenza tra le due cose perché oggetti e tabelle hanno un ciclo di vita totalmente diverso e tutto lo sforzo mentale che fai perché ti hanno insegnato P magari all'università o magari per il conto tuo perché tu sai che ci devono essere questi oggetti che interagiscono tra di loro nel cercare di mappare le tabelle del database su degli oggetti è sforzo sprecato perché sono due cose diverse sono due concetti diversi è come fare una metafora una similitudine e cercare di trovare tutte le somiglianze per cercare di far quadrare la tua metafora la somiglia e la tua similitudine è energie sprecate scusami ma lo so che tu hai detto che tu vivi di metafore quindi non volevo no 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 assolutamente anzi mi stai accompagnando a una domanda che volevo farti io ho già fatto stavo cercando se lo trovo un libro giusto giusto per contestualizzare ed è il libro di Domain Driven Design di Bernal e tu hai accompagnato la discussione in in questo in questo mondo no nel senso che dici noi abbiamo delle macchine che ragionano in un certo modo con alcuni costrutti e con la programmazione o a oggetti portiamo questi costrutti modellandoli in una simile realtà in un modello che rappresenti la realtà tutto questo sforzo che serve per semplificare fondamentalmente il nostro lavoro di sviluppatori nel comprendere il modello che stiamo andando a disegnare è un sacco di energia sprecata se solo ci dotassimo di un minimo di capacità di astrazione potremmo usare degli altri strumenti dimmi se sto se sto capendo bene la tua posizione potremmo usare degli altri strumenti che ci permettano di essere più efficienti e anche più efficaci probabilmente mi chiedo allora siccome io ho amato il domain driven design ma proprio alla follia nel senso che mia moglie c'era quasi gelosa mi chiedo quello che il giorno 2 che ho approcciato alla programmazione funzionale mi sono chiesto è ok io sto modellando questo livello di astrazione però la realtà non è come la disegniamo e come la vediamo ma la realtà correggimi se sbaglio vive di processi cioè di evoluzioni di cose che vanno da A a B e a quel punto cioè di cose che succedono no e tu io l'avrei chiamato funzioni non processi processi secondo me sono un po' come un dettaglio implementativo di una cpu processa è vero io ragionavo più in ottica aziendale non un processo cioè qualcosa che porta da uno stato A a uno stato B ok da una condizione A a una condizione B quindi essendo la nostra realtà dei software che stiamo sviluppando non la realtà che viviamo perché i software non sono la realtà che viviamo i software sono degli strumenti correggimi se sbaglio questo è il ragionamento quindi dico ha senso sviluppare questo software io la mia risposta ce l'ho ed è sì io posso modellare la realtà a processi tanto che sto leggendo un bellissimo libro di programmazione e di domain driven design in ambito funzionale che credo sia fantastico quel libro e utilizza i tipi e le funzioni per rappresentare il dominio e mi piace mi si chiama lì il libro è ce l'ho nel kindle c'è un bellissimo ci scriviamo dopo la registrazione no ma lo mettiamo lo mettiamo se tu cerchi ddd function hai scritto gli esempi di codice sono in f sharp che tra l'altro secondo me è la functional programming and domain driven design interessante comunque sì sì ed è molto interessante perché intanto perché tu approccia quel mondo che è il mondo che tendevi a modellare col domain driven design però lo fai con un approccio differente quindi quel problema di ingresso nell'ecosistema domain driven design quindi nel tuo modellino di classi di proprietà e di metodi no che ha un problema in ingresso che è quello che dicevi i dati miei stanno sul database in quel caso è pensato in termini di processi e quindi tutto più più fluido tutto più 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 collegato non mi viene difficile a spiegare assolutamente il senso quello che dici due cose secondo me vanno dette la prima è stanno cercando di stare un po' sul pezzo una volta che vedi le librerie di accesso al database di askel o di scala o di affeshark ti rendi conto di quanto siano semplici rispetto a un ORM classico per non citare il più grande classico ORM diffuso che è hibernate in java sono incredibilmente semplici attenzione non facili ma semplici nel senso che c'è poco poco codice pochi concetti poche metafore e quello è in dubbio evidente spiegare il ciclo di vita agli oggetti in hibernate a una persona quando lo utilizzavo tanto mi ci voleva qualche giorno neanche concetti complicati il secondo scusami prima pensavo a processi pensavo a processi ACP invece tu intenevi processi aziendali incidentalmente io adesso mi occupa proprio di process automation che è l'automazione dei processi e ti dico che gli strumenti che noi forniamo a livello di process automation che sono sostanzialmente rules e rule engine DMN che è il decision model notation e il JVPM che è un rule flow engine nessuno di questi tre è basato su dei concetti che vengono dalla programmazione orientata agli oggetti sono tutti sistemi banalmente DMN stateless senza stato proprio un concetto che viene proprio dalla programmazione funzionale e anche rules il rule engine su cui lavoro io ha un linguaggio di programmazione che è dichiarativo abbiamo parlato recentemente proprio con la mia azienda dichiarativo è proprio quasi un mondo diverso rispetto alla programmazione procedurale e ti fa pensare appunto perché i processi aziendali che si mappino meglio su dei concetti che non che non vengono dalla OP mi spiace che stai inventando un po' un dissing della OP o un parlare male della OP no 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 assolutamente tra l'altro mi dà da mangiare quindi come dà da mangiare a te per cui assolutamente e tra l'altro è molto vicino al mio modo di pensare vivo per metafore quindi la OP è perfetto però io sono assolutamente convinto che in un paio di generazioni qui lo dico come la citazione famosa di quello che diceva i computer non avranno più di 2 megabyte di RAM cos'è che diceva una cosa io sono convinto che probabilmente nel futuro nel nostro futuro non ci sarà OP mi dispiace ma mi dispiace per il valore storico che ha avuto ma sono quasi convinto che non ci sarà magari qualcuno scolterà questa cosa tra 60 anni e dirà ah questo che cazzata io non lo so se può essere un contributo interessante oppure un elemento in modalità cazzeggio però esiste un canarino oh oh mi è semblato di vedere un gatto che è quello che si porta in miniera no? sì per vedere se muore di questa adozione di massa della programmazione funzionale e lo vedo nei functional components di react react è uno dei framework più adottato a livello massivo sì quando noi usiamo gli effetti dentro un functional component di react per modellare tutto quello che è il side effect che tra un po' vediamo il concetto di side effect che tra un po' vediamo e usiamo le funzioni per creare un componente che in realtà è qualcosa che mentalmente abbiamo come concetto fisico e non di evoluzione di portare un elemento dallo stato A allo stato B ma proprio come elemento entità a sé stante beh questo può essere un canarino in miniera che dici se muore se schiatta oppure se sopravvive quindi è un indicatore no? sì però la programmazione funzionale ovunque come dici giustamente te anche in react in realtà ha pascato tantissimo la programmazione funzionale oramai è sul front end è sul back end non possiamo più ignorarla e non possiamo più ignorarla perché invece di andare nel concreto la funzione per quanto il concetto di funzione per quanto sia appunto difficile da capire o approcciare è molto semplice e compone molto bene compone in modo preciso un po' sta lì un po' l'idea della programmazione funzionale l'idea della composizione di funzioni che è definita in modo matematico però voglio dire si possono anche utilizzare dei metodi più pragmatici per spiegarlo ho visto la gente spiegare la composizione di funzione con il Lego per intenderci quindi potrei spiegarla anche a mio figlio di tre anni volendo una volta che si capisce l'idea di composizione di funzione ti rendi conto di quanto semplice sia questo concetto su cui ci puoi costruire delle cose giganti cosa che invece la composizione in object oriented programming non è così banale come sembra quindi da un lato hai il lato di modellazione dei dati di cui sembra scontato ma poi quando questi dati devono interagire tra di loro non è per niente scontato e quindi è brutto da dire ma le funzioni si compongono praticamente solo in un modo e in Haskell questa cosa è proprio emblematica se proviamo a parlare un po' di Haskell Haskell è un type system forte è strongly type il type system di Haskell è molto diverso dai type system cui siamo abituati oggigiorno è anche proprio una sintassi diversa anche questa cosa che le definizioni di tipi delle funzioni sono definite su un'alta riga rispetto all'implementazione è aliena giusto? se uno viene dalla programmazione procedurale qui ci ricolleghiamo con il discorso di prima il problema è il pregiudizio noi abbiamo imparato a programmare con C o con Java quindi siamo abituati ad avere i tipi in line avere già i tipi su un'alta riga è una cosa che se uno parte da zero non gliene fega niente se invece uno ha un bagaglio di 10-20 anni a usare i tipi in un modo comunque è un tipo alieno ma questi tipi rappresentano proprio l'unico modo con cui puoi comporre queste funzioni ed è proprio il meccanismo con cui si fa con cui si modellano i programmi in Haskell proprio si utilizza il compilatore proprio in modo molto forte e c'è questo stereotipo anche questo si è uno stereotipo in Haskell che si dice che quando il programma compila allora fa quello che vuoi ok ed è una cosa molto forte perché all'inizio se uno non compila c'è una lotta non compila ma per come hai fatto Haskell per questa cosa dei side effects così della purezza di cui magari parliamo un po' dopo in effetti una volta che hai compilato tutto il tuo programma è l'unica soluzione che hai deve funzionare di sicuro non c'è proprio niente nessun dettaglio che ti sta nascondendo non c'è il concetto di puntatore area di memoria virtual table tutte cose che sono dei dettagli che ci portiamo dietro dalla stara non c'è ci sono solo le tue funzioni che sono composte nell'unico modo in cui si possono comporre e ti dirò di più c'è un bellissimo libro che ho citato in un talk che è un libro rosso che si chiama Functional Programming in Scala qui Scala ce l'hai grande quello è proprio di Runar e c'è l'altro non mi ricordo come si chiama scusate dopo mettiamo dei link vabbè comunque è un linguaggio c'è scritto in Scala ovviamente quello è un libro su Functional Programming Scala è solo il modo in cui ti mostrano gli esempi e proprio all'inizio lui ti fa questo esempio di una funzione da cui definito il tipo della funzione c'è una sola implementazione valida e questo è incredibile se ci pensi perché una volta che siamo sicuri che c'è una sola implementazione valida possiamo rilassarci anche questo l'ho detto in un altro talk la programmazione funzionale è rilassante perché non ci sono cose nascoste non ci sono interazioni strane tutto quello che vedi è tutto quello che c'è il funzionamento sarà sempre uguale c'è questa idea del determinismo l'idea che dato uno stesso input otterrai sempre uno stesso out questa cosa ci dovrebbe fare dormire di notte è per noi importante insomma dormire bene è importante riceverete proprio questo materasso non un materasso arrotolato sotto vuoto senza sostegno ma il vero materasso ortopedico assolutamente quindi il concetto di funzione è fondamentalmente quello che hai detto tu quindi qualcosa che dato un input noto di tipo noto ci risponde un output che già prevediamo che sia di quel tipo cioè se io ho il distributore di benzina se io metto 10 euro sono sicuro che usciranno 10 euro di carburante ok perché mi aspetto che escano 10 euro di carburante tu prima hai detto che le funzioni in realtà dato un ingresso ti devono dare sempre un'uscita sono tutti esempi calzanti allora diciamo che nel mondo delle idee la nostra teoria è che se tu dai dei soldi ottieni qualche cosa quindi se io dovessi definire la mia funzione più semplice che c'è è una funzione che prende come parametro in input i soldi e mi restituisce un oggetto ok il mondo reale non è fatto così il mondo reale ha tutta una serie di interazioni che non vengono dalla che non vengono non sono così semplici da modellare tipo banalmente i soldi potrebbero non essere stropicciati e la macchinetta non me li prende la coca cola potrebbe essere finita qualcuno potrebbe aver sbagliato no vabbè questo non è un grande esempio oppure non so la macchinetta si potrebbe andrebbe via la corrente mentre mentre cerco di ottenere la cosa oppure si inceppa il meccanismo tutti questi sono side effects e ci sono nel mondo reale ma non rendono il nostro principio meno vero di quello che serve se il tuo business model è fare soldi con le macchinette gli utenti otterranno metteranno dei soldi e otterrai un risultato non so se mi segui qui abbiamo proprio due lati della vicenda abbiamo da un lato la funzione pura che rappresenta il nostro business model le nostre regole di business citando anche un concetto della process automation d'altro canto hai side effects storicamente ci siamo concentrati di più su side effects quindi abbiamo programmato con la programmazione procedurale in C come se fosse tutto un gigantesco side effect come se tu dovessi definire un numero e ti dovessi già preoccupare di quel numero dove lo dovevi mettere e allora quando dovevi avere un numero dovevi pensare che dovevi metterlo nell'area di memoria o se avevi una lista di numeri ti dovevi preoccupare ad esempio di quanta memoria allocare per questa lista di numeri perché in C è così se utilizzi un array in C devi dire quanto è grande un array oppure se devi utilizzare una lista ti devi preoccupare di come fare la lista devi capire i puntatori questi sono tutti dettagli implementativi ma la verità è che una macchinetta è metti i soldi e ottieni i risultati quando devi modellare i side effects lì la questione diventa molto interessante perché Haskell è approcciata in un modo tutti gli altri linguaggi di programmazione funzionali che abbiamo citato prima come F-Sharp come Lisp o come Scala ad esempio l'hanno approcciata in un altro modo non c'è un modo migliore degli altri sono semplicemente modi diversi però ci sono delle idee diverse chissà in futuro quale utilizzeremo quindi ricapitolando fondamentalmente la nostra macchinetta prende in ingresso i soldi e sputa la bibita adesso potrebbero succedere delle cose queste cose che per esempio la stampa dello scontrino piuttosto che la corrente che manca che esulano da quello che è teoricamente il processo standard della mia macchina ma che interagiscono col mondo esterno ok vengono definite side effect quindi effetti collaterali dell'acquisto della mia bibita esatto esatto e questo è chiaro poi hai introdotto il concetto di funzione pura esatto no è proprio lì è proprio qui il discorso l'idea di funzione pura è un'idea di una funzione che data lo stesso input ci restituisce sempre lo stesso output che appunto è molto facile scusate non è facile è semplice da capire nel caso in cui stiamo ragionando con la matematica i classici esempi tipo 2 più 2 fa 4 però giustamente la gente mi dice la programmazione non è 2 più 2 fa 4 la programmazione interagisce con il database chiama il web service oppure anche manda manda la lattina di coca cola perché alla fine anche queste macchine vengono programmate nella funzione pura c'è non c'è proprio questa idea del side effect o perlomeno modellare l'idea del side effect ha più a che fare con il sistema di tipi che col concetto di funzione diciamo che nella funzione non c'è vari linguaggi di programmazione funzionale pura hanno utilizzato vari metodi comunque una metafora intuitiva visto che tu vivi di metafore scusami sì io vivo solo di quello che però è abbastanza facile da capire è quella da cui si parte da una funzione pura dove il suo input è il mondo e l'output è il mondo è arrivato la rotina ok questa metafora ci fa intuire come si può iniziare a modellare una serie di interazioni con col mondo reale con un linguaggio di programmazione funzionale puro è vero che ci sono varie condizioni ma è vero che se noi mettessimo il mondo nella condizione in cui era quando l'abbiamo dato come input probabilmente ci sarebbe lo stesso mondo nella condizione in cui abbiamo dato come output noi siamo abituati a pensare che al mondo ha il mondo mutabile giustamente se io prendo non so il telefono la borraccia che ho qua e la sposto qua sto effettivamente spostando una cosa però con un minimo di sforzo mentale possiamo pensare che quando ho risposto la borraccia in avanti la borraccia che è qua stiamo creando un nuovo mondo in cui la borraccia è in un'altra posizione e questo proprio nuovo mondo è così anche nel passare del tempo se ci pensiamo potremmo pensare che la cosa stiamo spostando ma la realtà è che il tempo è passato mentre dicevo questa frase e quindi è già un nuovo mondo è un mondo con 5 secondi in più questo è un po' troppo filosofeggiante però è interessante no sì è giusto il concetto ed è una delle complessità che si vedono quando si approccia o che io ho avuto quando si approccia alla programmazione funzionale è quello di lavorare con degli stati immutabili perché dico ma caspita di per sé il programma che sto facendo serve per alterare dei dati e far evolvere dei dati ma se io non li faccio immutabili o dei dati nuovi cosa farò e in realtà invece proprio l'usare questo approccio quindi l'utilizzo dei dati immutabili ci dà intanto una gestione migliore del processo che stiamo andando a creare perché per esempio mettiamo all'angolo tutta una serie di problemi che potremmo avere con la modifica del dato dello stato che altrimenti essendo immutabile non renderebbe la nostra funzione predecibile quindi io non posso prevedere cosa mi aspetto come risultato dalla funzione esatto allora a dovervi cronaca ti devo dire che hai utilizzato il termine migliore che è un termine un po' rischioso in questi discorsi perché giustamente migliore è soggettivo e opinabile scusami se te lo devo dire perché poi c'è rischio di dire ah come il teni maro vanno in giro a dire che la programma se funziona è migliore io non la conosco bene quindi tutto quello che dico potrebbe essere una fesseria allora migliore dal punto se fissiamo un punto fermo che è quello del determinismo è più deterministico quindi è migliore nel senso che è deterministico banalmente non è migliore a livello il caso tipico che fanno non è migliore a livello di allocazione di memoria perché ovviamente se io per definire una cosa prendo tutto il mondo e ci cambio solo lo stato della borraccia e tutto il mondo occupa due terabyte penso che è bello se il mondo occupasse due terabyte potremmo prenderlo e modificarlo così ridarti un altro mondo di due terabyte solo per avere un bit spostato fa un po' ridere e ci ricolleghiamo al discorso di prestazioni di prima quindi questa cosa non è necessariamente migliore da tutti i punti di vista è semplicemente più deterministico però sì il modello di programmazione funzionale pura utilizza questi ragionamenti di immutabilità di determinismo per dare un certo tipo di comportamento adesso scusami ma già che stiamo filosofeggiando fammi ritornare un secondo sull'idea del tempo perché anche questo è importante nella programmazione procedurale noi siamo abituati quando leggiamo un listato nel codice sorgente a ragionare a livello temporale anche se è implicito perché in un linguaggio procedurale le istruzioni vengono eseguite in ordine quindi se c'è un'istruzione dopo un'istruzione precedente noi siamo abbastanza sicuri che l'istruzione dopo sarà eseguita dopo dopo proprio fisicamente proprio dal clock della CPU che gira l'istruzione dopo sarà eseguita dopo quella prima è una cosa fin tanto che scontata in un linguaggio funzionale pur come Haskell l'ordine con cui vengono scritte le cose non cita assolutamente niente con l'ordine con cui vengono valutati vengono valutati è valutato è un neologismo bruttissimo lavorando sempre e il tempo se ci pensi anche nel listato di Haskell i programmi in Java storicamente si scrivono dall'alto verso il basso e i programmi in Haskell si scrivono da sinistra verso destra mind blowing esatto potrei metterci un emoji per rappresentare la mia faccia adesso no ho capito quello che che vuoi dire spero di 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 non aver confuso troppo con ma è questo il bello è confondere le persone no fate gli scherzi allora sembra che stiamo andando un po' per la tangente stiamo filosofeggiando parlando del mondo del tempo delle cose reali c'è poca attinenza col mondo reale è una cosa diversa rispetto alla programmazione la programmazione procedurale storica ha a che fare con la CPU la memoria e cose così la programmazione funzionale non c'entra veramente niente questo è proprio il messaggio che vogliamo proprio fare arrivare cioè io vorrei fare arrivare le persone non c'entra niente è proprio un'altra cosa per molti questo è è bello perché è un nuovo inizio se riparte da zero così io capisco che le persone che invece vogliono avere una certa continuità con quello che vogliono con quello che stanno già usando non è necessariamente l'approccio ideale per loro quindi io consiglio sempre di studiare Haskell perché Haskell è un po' il linguaggio più emblematico è quello che ha tutti questi concetti non ha nessun compromesso diciamoci la verità prende questi concetti è partito fresh start e ha utilizzato questi e incontri solo concetti nuovi ma per imparare la programmazione funzionale uno non è obbligato a utilizzare Haskell se uno vuole continuità secondo me non dovrebbe neanche utilizzarlo Haskell ci sono una serie di altri linguaggi che sono più docili da questo punto di vista e ci si arriva con più tranquillità la programmazione funzionale tipo passare da JavaScript tipo passare da Java e così e si introducono i vari concetti di programmazione funzionale quindi le funzioni le funzioni di ordine superiore e altri vari concetti che non vuoi citare si vede ti stai sforzando no 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 e poi piano piano si introducono vero che poi che poi è il mio percorso io il percorso che sto facendo in realtà parte da JavaScript ieri per esempio mi sono scritto la mia funzione compose è la mia pipe e ne sono fierissimo ho anche fatto la mia funzioncina a carry per il carrying poi andremo a vedere cos'è rapidamente visto che il tempo corre ma giusto ci sono così tante cose da dire sì davvero ce n'è tantissimo e a quel punto arrivi a un certo punto e dici bene ok JavaScript fighissimo forse ho bisogno di un type system non lo so però mi sono fatto ho giocato col concetto di funtore che poi questa cosa complessa non è nel senso che prendi la tua roba il tuo dato in ingresso lo metti dentro una scatoletta che potrebbe essere anche vuota fai entrare la scatoletta nella funzione e ti aspetti una scatoletta in uscita che dire la metafora del mondo reale applicata a questo tipo di concetti può essere utile nell'imparare questi concetti abbiamo citato prima il concetto di Mona di i vari esempi che derivano da che utilizzano anche quello le scatole ho visto robottini cose burrito c'è di tutto online sì però sai cos'è Luca e quello che penso io la la metafora aiuta a non spaventare una volta che hai utilizzato la metafora per capire la composizione quindi il tubo d'acqua per rappresentare la pipe e dentro quell'acqua ci sono dei filtri delle grie quello che ti pare una volta che non ti spaventa quel concetto allora vai e ti scrivi la tua funzioncina che ti che ti fa lack of function composition è arrivato l'arrotino i type system sono un discorso un po' controverso diciamo io quando ho iniziato a lavorare io si parlava proprio di linguaggi dinamici tanto ma si parlava tanto proprio come una cosa nuova si parlava di linguaggi di programmazione senza il type system come se fosse il futuro poi piano piano si è andato in un'altra direzione quindi quando ho iniziato a lavorare io era 2007 utilizzare python voleva dire utilizzare in qualche cosa di nuovo fresco moderno così il problema è che in un linguaggio di programmazione funzionale dove la composizione è tutto non avere i tipi secondo me non ti aiuta a capire quello che sta succedendo perché appunto abbiamo detto sono concetti semplici ma difficili da capire quindi c'è poche cose però ci vuole un discreto sforzo e per avere questo discreto sforzo un sistema di tipi che ti descrive esattamente quello che sta succedendo ti aiuta a ragionare se non ce l'hai lo devi tenere in memoria e quindi tenere in memoria è faticoso e quindi siccome le nostre risorse sono limitate non vogliamo necessariamente fare la cosa più difficile che c'è noi vogliamo fare la cosa più semplice che c'è giusto? il problema secondo me è sempre il punto d'accesso cioè l'approccio alla complessità all'astrazione che è là è là lo snodo una volta che si supera quel passaggio in certa parte è il nostro lavoro creare astrazioni comunque dove volevo arrivare col sistema di tipi è comunque successo di linguaggi anche sul front end come Typescript dimostrano che in effetti il sistema di tipi in dieci anni hanno cambiato faccia magari il sistema di tipi di Java e S++ non piaceva particolarmente perché i programmatori non lo trovavano particolarmente utile ma una volta che si inizia a ragionare con funzioni puntori monoidi o tutte quelle cose che si vengono alla programmazione di funzioni che fanno un po' paura perché hanno dei nomi un po' strani farlo senza il sistema di tipi è semplicemente sconveniente una cosa molto interessante è che probabilmente il sistema di tipi io lo vedo da Typescript sta entrando anche nel diciamo nella sta diventando abbastanza utilizzato da tutti i programmatori a tutti i livelli ecco la cosa interessante è che tutto sommato Typescript ha un buon sistema di tipi non è eccezionale però per sapere che c'è il javascript sotto il sederino dici wow è fighissimo è questo sistema di tipi oltre che a darti quella a sapere cosa sta succedendo fondamentalmente ti previene tutto un lavoro di type checking che faresti in fase di testing sì assolutamente sì infatti è molto importante sono strumenti sono tutti gli strumenti che dovremmo utilizzare probabilmente il pregiudizio verso i sistemi di tipi che è stato generato negli ultimi anni negli anni appunto storici quando se ne parlava male derivava dal fatto che i tool non erano così convenienti ad esempio in Haskell che abbiamo citato prima qui i tool non è che brillino proprio per bellezza però il sistema di tipi può essere omesso e questo non rende Haskell un sistema un linguaggio di programmazione non tipato lo rende comunque tipato però anche senza scrivere una riga di tipo a meno di casi eccezionali e questo se ci pensi è incredibile perché unisce il meglio dei due mondi cioè il fatto che il compilatore ti verificherà subito se il tuo programma è scritto senza doverlo girare o senza dover scrivere dei test espliciti per testarlo ma allo stesso tempo tu da programmatore non devi scrivere neanche una riga di tipo e questo è e questo comunque si può fare solamente perché il sistema di tipi di Haskell è un sistema di tipi diverso sì ma è forte ma non è lo stesso sistema di tipi dell'obiettore del programma in classico il sistema di tipi di Haskell è unico si chiama oddio spero di cercarlo giusto mi sembra che si chiama hitney miller prende nome dai due che l'hanno inventato ed è anche qui è totalmente diverso da quello di Object-oriented Programming in Object-oriented Programming c'è questa idea alla base che è molto forte nei sistemi di tipi di Java e C Sharp c'è questa idea del tipo che viene dall'esterno quindi immagina di programmare su delle interfacce storicamente C++ in Java si chiamano interfacce programmare sulle interfacce vuol dire che quando scrivo il programma non interessa l'implementazione concreta dell'oggetto mi interessa semplicemente che quell'oggetto soddisfi con l'interfaccia che vuol dire che questo tipo può venire dall'esterno e questo tipo può non esistere ok può non esistere quando io scrivo il programma ma pare arrivare all'esterno è molto forte è molto potente questo sistema quando devi scrivere dei plugin ad esempio tu sai che scrivi una serie di interfacce e poi te lo do a te e tu senza dover ricompilare la cosa perché da qui il fulcro della vicenda è questa storicamente l'hanno inventato in Java per poter aumentare il comportamento dei nostri programmi senza dover ricompilare perché al tempo ricompilare ci vuoleva un sacco di tempo io me lo ricordo prima dell'SSD con le CPU poco potenti compilare ci voleva proprio tanto tempo con scala ci vuole ancora uso con scala e comunque l'idea è quello tu mi davi un jar un pacchettino dall'esterno questo pacchettino definiva dei nuovi tipi ma io sapevo che questi nuovi tipi soddisfavano le mie interfacce e quindi tutto funzionava tutto componeva in Haskell questo non è possibile Haskell nel momento della compilazione deve sapere ogni tipo che esiste una volta che ha questa assunzione poi qui c'è un asterisco perché poi si possono simulare questo comportamento anche in Haskell però non si fa tendenzialmente nell'Haskell base non si fa quindi quando tu a compile time sai già tutte le varie definizioni dei tuoi tipi tutti i tuoi vari sottotipi le declinazioni chiamiamole un po' come si vuole il sistema di inferenza dei tipi che hai citato prima type inferenze in inglese può fare delle assunzioni molto forti sa già tutti i comportamenti tutti i branch in cui otterra la cosa perché non può mai arrivare qualcuno all'esterno a dire ah non hai considerato questo tipo giusto? e quindi facendolo così è più riduttivo ma è più forte ha un controllo molto maggiore e capire questo vuol dire che ti puoi permettere ad esempio lui può indovinare tutti i tipi senza dover ne specificare neanche uno che però è un bel vantaggio diciamocelo forse nel 2020 è un vantaggio più grande di avere invece il vantaggio storico dei vari programmi che ti permettevano di prendere un pacchettino dall'esterno e aggiungerlo e aumentare la funzionalità anche perché è cambiato un po' il contesto esatto la compilazione è diventata più veloce prima non si ricompilava ogni volta adesso ad esempio prima in Java nell'ecosistema Java c'era questa idea degli application server questi baracconi che giravano in memoria in cui tu andavi e fornivi una nuova implementazione loro stavano continuavano a girare in memoria toglievano la vecchia implementazione e la mettevano a nuovo adesso non si fa più così nel mondo dell'hybrid cloud tra l'altro del serverless si fanno delle compilazioni punti compili mandi su e basta ogni volta ricompili ogni volta rifari ripartire nuove istanze dei tuoi nodi del cluster cambia tutto bellissimo guarda più ne parli più mi viene veramente quella che io chiamo la scimmietta sulla spalla che dice guardalo guardalo in realtà la cosa che credo più più figa in assoluto dal mio punto di vista è proprio quello di provare a cambiare completamente paradigma e a giocare quindi giusto per ritornare nel nostro discorso iniziale provare un nuovo linguaggio e provare Haskell come primo linguaggio ti aiuta a fare quel gioco quando arriva il nuovo videogioco e devi capire le dinamiche di gioco e quindi può essere divertente spesso è difficile prendere un progetto nuovo e farlo partire in Haskell quindi dal mio punto di vista secondo me Haskell è quell'esercizio che però e questo lo dico con quelle due cosettine che ho visto di programmazione funzionale migliora di brutto anche la parte di programmazione oggetti che faresti questo è quello che sto sperando in questo momento è interessante è una formazione forte certo i principi della programmazione funzionale quando applicati l'oggetto oriented programming danno dei vantaggi innegabili tipo l'immutabilità il determinismo quello non hai bisogno di utilizzare la programmazione funzionale per utilizzarle e in questo senso hai assolutamente ragione probabilmente scrivendo programmi procedurali ma stando attento a utilizzare appunto l'immutabilità così hai delle garanzie migliori sul tuo codice l'altra cosa che dici che ti fa migliorare a livello di programmatore OP forse sì ad esempio c'è un pattern classico nella storia di OP che si chiama il visitor pattern tu cosa stavi citando? no io sto usando per esempio ho sostituito parte degli strategi il visitor pattern abbiamo fatto un talk con il mio collega amico Mario qualche tempo fa in cui andavamo a far vedere visto ah l'hai visto i pattern originali e far vedere come si applicavano in programmazione funzionale insomma il visitor pattern non potevo dirlo di averlo capito fino a che non ho utilizzato Haskell poi quando ho utilizzato un po' Haskell e ho iniziato a capire così poi ho detto ah ma aspettate ma quando ho rivisto il visitor pattern hanno detto questo è un modo molto scomodo per definire una funzione che si applica su NTP che è in Haskell quindi in questo senso sì vedere un'altra prospettiva ti fa anche diventare un migliore programmatore OP quindi c'è da dire che va detto che si possono creare un po' delle situazioni un po' strane tipo quella che si è creata in Scala oggigiorno io adesso è un po' che sono fuori dal mondo della Scala devo dire la verità il mostro ha due teste esatto quello che citavo non mi ricordo chi lo diceva però fa abbastanza ridere i programatori Scala si dividono in due persone è una battuta una buttata quelli che vorrebbero che fosse Java e quelli che vorrebbero che fosse Haskell ed è però fa ridere perché anche con queste battute è basato su un fondo di verità ci sono quelli che cercano di utilizzare Scala alla funzionalità OP e ci sono un sacco di persone che cercano di rimprimentarsi le librerie più famose di Haskell e la Standard Library in Scala con dei risultati che non sono sicuro che siano efficaci cioè risultati che una volta che li vedi dici sì ma perché allora non abbiamo utilizzato Haskell direttamente la verità è che Scala girando sulla JVM storicamente era un po' più facile da introdurre al business esatto secondo me Scala ha il suo senso cioè questa doppia testa questo mostra due teste ha il suo senso e secondo me ha il suo senso per tipologie di sviluppatori che vogliono che si trovano nella mia condizione quindi vogliono provare delle robe funzionali senza sentirsi sentirsi direttamente improdutivi immediatamente improduttivi e quindi cercare di realizzare qualcosa fatto male certo perché però creare qualcosa ci sono degli sviluppatori come sono io che hanno necessità della soddisfazione di aver creato qualcosa di concreto che poi sia veramente uno schifo un bug piuttosto che una feature però hai subito questa soddisfazione immediata e da questo punto di vista Scala ti permette di fare questo ovvero è che io conosco delle aziende non farò il nome però conosco delle multinazionali che proibiscono l'approccio funzionale nella loro codebase Scala ma proprio da guideline da guideline come come biasimarne però loro dicono il ragionamento che fanno è in termini di accessibilità del codice è un lungo discorso che abbiamo fatto con Mattia Tomasone parlando di code review qualche tempo fa cioè se io mi vado a implementare questa parte con un approccio funzionale poi rischio che il newcomer o l'onboarding venga particolarmente rallentato per tutto quello che ci siamo detti prima sono tutte situazioni che derivano dal contesto storico se si fosse partiti direttamente dall'insegnare la programmazione funzionale è per quello che dico che nel giro di magari una generazione non ce ne preoccuperemo perché man mano che è più diffuso magari le persone usciranno dall'università o dalle scuole professionali utilizzando già la programmazione funzionale e non avranno questo problema di dire ah mi devi spiegare cos'è una funzione di ordine superiore per iniziare a lavorare io so che avendo vissuto la community Scala mi ricordo ancora un talk di un ragazzo allo Scala Italy di cui ho profonda stima che però per mostrare le type signature di questa libreria funzionale di Scala che si chiama Scala Z sono uguali Scala Z cazzo fanno più o meno la stessa cosa mi sembra che fosse ancora al tempo Scala Z forse era Chezza mostrava la documentazione di Askel e sinceramente è una situazione un po' strana perché veramente se devi spiegare Askel per far capire Scala Z allora forse questo turno sta venendo particolarmente bene d'altra parte persone d'altra parte ci sta perché anch'io ho fatto lo stesso errore se mi concedi il termine anch'io piuttosto che proprio per lavorare in funzionale ho preso il primo lavoro con il primo linguaggio funzionale che c'era proprio per il gusto di dire ho fatto programmazione funzionale per vivere ho guadagnato con la programmazione funzionale ovviamente ho imparato tanto quindi non è stato proprio un errore però alla fine magari poi finisci per mettere delle robe troppo avanzate in un linguaggio che non è troppo espressivo per esprimere quel genere di cose adesso fra poco uscirà Scala Z scusate Scala 3 e sinceramente sono un po' fuori dal mondo però so che forse stanno risolvendo certi problemi tipo io vedo che mia moglie lo attende con ansia quindi ma tua moglie lo attende con ansia sì perché dovrebbe essere una soluzione ufficiale a certi problemi che ci sono proprio in Scala 2 tipo banalmente come definire una Type Class dovrebbe essere esolto questo anche se scusate ma non abbiamo detto che cos'è una Type Class però se qualcuno magari lo programma in Scala mi sente questo ho visto che il tempo sta volando io volevo farti un'altra domanda quindi abbiamo detto che Askel dai possiamo farcela motivaci da questo punto di vista allora se ce l'ho fatta io ce la potete fare anche voi io sono il più poveretto assumete che io sia la persona meno competente tra di voi veramente e ce l'ho fatta quindi il problema non è quello il mio consiglio è trovatevi se ci riuscite ovviamente quello che dicevo all'inizio trovatevi un mentore che vi segue il problema del mentore ovviamente è che a quel punto diventa una funzione di quanto è bravo il mentore ed è molto rischioso io se volete imparare Askel quello che vi consiglio è prendete contatto con la community italiana di Askel la community italiana di Askel non è stata fondata da me come qualcuno va in giro a dire io semplicemente l'ho un po' organizzata per qualche anno adesso ultimamente con il figlio ci sono un po' staccato però è piena di persone brave competenti e gentili anche diciamo questa nomea della community Askel di essere un po' tossica se si va su Twitter così sinceramente nella community Askel italiana non c'è mai stata veramente persone che sono sempre disponibili a tutte le ore del giorno a cercare di rispondere ogni di ogni ogni risultato e c'è veramente tutti i livelli di gente che inizia da zero un tempo organizzavamo degli incontri italiani ci incontravamo e spiegavamo le basi iniziavamo a iniziare ed era interessante c'erano anche 30 40 persone il primo incontro c'erano 12 persone però vabbè poi mano a mano abbiamo capito che anche lì è una funzione di dove lo fai in che città lo fai quando lo fai insomma nel weekend poi la gente magari non ha tempo non ha voglia però veramente nella comunità italiana di Askel che è Askel il cui sito dopo mettiamo nei link sì mi sembra che sia askelita.it perché Askel non ce l'abbiamo perché ci hanno rubato il dominio ma questa è un'altra storia comunque nella comunità c'è pieno di gente c'è una mailing list che adesso purtroppo è morta ma c'è un canale di telegram invece dove scrivono ogni giorno la gente chiede fa domande su Askel e riceve risposte c'è un canale su IRC se vi piacciono questo genere di cose che è uguale lo stesso canale collegato sì esatto che si riescono ad ottenere risultati e poi che si parta da un libro ora la situazione dei problemi di un libro sul canale di Askel vi possono consigliare tutti i libri adatti ci sono tanti libri tanti libri diversi non c'è un libro migliore dell'altro però veramente fatelo ma dove non c'è teoria delle categorie spero no ma la teoria delle categorie allora la verità è che fare delle battute su Askel è stato un po' come sparare sulla croce rossa aveva all'interno dei concetti che avevano dei nomi così astrusi che farci delle battute sopra venivano veramente troppo facili purtroppo si è creato un po' un senso di celodurismo dietro queste cose un senso di superiorità di qualche tipo ma è una sensazione tossica che andrebbe smontata sostanzialmente quando vedo un talk che succede un sacco di volte quando vedo un talk che è una conferenza di cui qualcuno si vergogna di dire la parola monade o magari fa monade poi fa l'occhiolino quelle robe lì sono cose tristissime diciamocelo cioè sono cose che non aiutano i neurofiti spaventano solo le persone è proprio celodurismo scusate non so se si può dire durante questa cosa cioè l'idea di ah io ho capito una cosa molto difficile perché comunque sono cose difficili di nuovo semplici nel senso che sono pochi concetti ma difficili nel senso che richiede una grande energia nel cercare di capirlo ma non aiuta la comunità cercare andare a vantarsi del fatto di averle capite mentre le altre persone non le hanno capite se è possibile aiuta invece cercare di approcciare i vari modi quello che hai detto te delle scatole e cose così per cercare di spiegarlo quello secondo me aiuta a vi più cercare di far capire che questi concetti sono alla portata di tutti anche quelli che iniziano da zero veramente secondo me è importante un po' sai c'è c'è questa cosa di violenza nel senso che l'ho vista per esempio per tutti quelli che per sbaglio rappresentano una promise come una monada e là succede il finimondo l'aggressione che come dici tu può anche essere una modalità di protezione per però capisci che spaventa sì un endofuntore cos'è un endofuntore questa tossicità allora c'è tossicità in tutti i mondi lavorativi noi abbiamo la possibilità di essere molto analitici e molto razionali perché il nostro lavoro ce li impone e in questo dovremmo anche riconoscere che ci sono certi comportamenti tossici che possiamo semplicemente smontare basta che decidiamo di non seguirli più e andare così quindi fare scemi fare vergognare una persona perché non ha capito un concetto che è astratto l'hai detto all'inizio è astratto quindi non è un concetto normale non è una cosa che ti posso spiegare davanti a una birra ogni tanto lo faccio perché mi trovo qualcuno che mi dice ok Luca questa volta mi devi spiegare cos'è una monada e l'ho fatto su un foglio di carta igienica a una conferenza davanti a una birra cioè sono divertenti da farlo però non c'è bisogno di fare di vergognarsi se uno lo capisce io stesso ci ho messo mesi mesi proprio che mi faceva male la testa non ci capivo niente quando ho iniziato a lavorare e lavoravo in C-Shark avevo questo libro bellissimo di Haskell che adesso purtroppo non è più utilizzabile perché è cambiato così tanto Haskell che non è utilizzabile un libro piccolino si chiama Haskell School of Expression e vi giuro io lo leggevo e non ci capivo niente cioè non capivo neanche dove volevo arrivare ci ho messo mesi a me piace questa sensazione è una sensazione che viene dalla matematica quella sensazione di avere un problema non lo capisci poi improvvisamente lo capisci e ti senti sì quando si spanna la nebbia esatto è una sensazione particolarissima esatto a me piace però mi rendo conto che può non piacere a tutti e può generare frustrazione nelle persone e quindi dobbiamo metterci dobbiamo essere empatici metterci anche nella posizione di altre persone cercare di trovare vari modi sì verissimo verissimo ultima domanda così ti lascio e ti ho rubato un sacco di tempo scusami adesso avevamo in programma di fare delle cose di raccontare delle cose magari andando un po' più nel dettaglio di Ask che non l'abbiamo fatto magari puoi decidere te magari se viene fuori un certo commitment da parte della comunità magari possiamo anche incontrare io do la mia massima disponibilità per andare più sul concreto diciamo sì no ma credo che da questo punto di vista sia stato un un confronto un confronto in Paris nel senso che insomma ma che in Paris ma che in Paris nel senso che tu sei più preparato di me no vabbè però che serve il mio obiettivo fondamentalmente con questa chiacchierata era quello di dire ok io ci sto provando questa cosa mi sta gasando un sacco forse spaventa un po' meno di quello che generalmente spaventa quando ci si approccia quindi questo era il messaggio fondamentalmente è arrivato l'arrotino sai cosa mi piacerebbe fare invece sì provare a fare una un'altra chiacchierata dove parliamo invece dei pattern dell'approccio funzionale e pattern perché secondo me tieni presente che il mio mondo cioè il fatto che io mi sia incuriosito della programmazione funzionale viene da quel talk che tu hai citato sui pattern con Mario anche tu hai il cappello rosso scusa sì sì ce lo danno tutti quando ti assumono te lo danno sì bello sono fiero io sono fiero di lavorare per Red Hat quello devo dire è una delle società migliori in cui lavorare per cui ho mai lavorato anzi è la società migliore per cui ho lavorato di sicuro e secondo me è anche una delle migliori società in cui lavorare oggigiorno guarda ti dico solo che ci sono alcuni membri della nostra community che ambiscono a quel posto quindi che fanno bene Mario storicamente a livello di community è stata un po' la figura più più esplicita rispetto a lavorare perché banalmente tutti i talk li facevano col cappello rosso io tendenzialmente ho mi hanno assunto nel 2017 quindi sono comunque un acquisto recente diciamo così però posso capire perché tanta gente vuole lavorarci è una combinazione unica di open source e tecnologie e argomenti interessanti che è è bello è innegabile secondo te esiste un mondo del lavoro pronto a assorbire delle persone che sperimentano questo approccio più generico diciamo programmazione funzionale perché anzi entrambi gli elementi le offerte di lavoro non sono tantissime non sono neanche poche e spesso girano appunto della comunità Haskell io vi dico che nella comunità Haskell dove c'è della gente ben più preparata di me soprattutto su Haskell quindi ben più preparata in generale ma soprattutto su Haskell ordini di grandezza più preparate c'è anche un sacco di gente che ci lavora che proprio guadagna uno stipendio così ovvio che uno deve avere un po' una prospettiva globale e iniziare a pensare di poter lavorare all'estero nel senso di trasferirsi all'estero tante persone hanno fatto così sono trasferite all'estero a Londra a Zoigo e invece tante persone lavorano da remoto per società estere essenzialmente io dico a meno che uno proprio non è innamorato di Haskell pensa che proprio sia la sua vita io se posso dare un consiglio agli ascoltatori di stare un po' attenti a fare una una scelta del genere se uno vuole fare come esperienze di vita e dire di ottimizzare però alla fine scegliere un lavoro è sempre un insieme di fattori la cui tecnologia è semplicemente un fattore che possiamo decidere se dare più peso o meno peso se uno vuole ottimizzare oggigiorno per un lavoro in Haskell quindi voglio a tutti i costi un lavoro in Haskell lo trova non è che necessariamente otterrà il lavoro anche se si aspetti di trovare il lavoro migliore del mondo perché ovviamente se tu atomizzi un fattore gli altri fattori vanno a farsi benedire quindi magari perdi il post brutto la location e così magari lo stipendio è anche più basso anche se questo non lo so la verità è che non lo so quanto pagano le società che fanno Haskell tendenzialmente è difficile trovare programmatori punto è difficile trovare programmatori Haskell ancora di più quindi se una società ha investito in Haskell si trova in una situazione un po' strana perché se uno se ne va c'è il rischio che non trovi nessun altro che lo sostituisca che vuol dire che poi le società non investono in questa tecnologia ci vuole una massa critica paradossalmente oggi è più facile trovare un lavoro pagato bene in Java che in Haskell anche se in Haskell c'è più richiesta perché giustamente ci sono più società che hanno investito nella tecnologia perché sanno che se c'è qualcuno che se ne va dalle dimissioni in tal caso è più facile da rimpiazzare con qualcuno anche di bravo diciamo abbiamo citato Scala scusate scusa se mi prendo ancora 5 minuti abbiamo citato Scala io quando lavoravo in Scala e giravo nella community Scala a Milano conoscevo una società che qui non si fa si dice peccato ma non è peccato è che assumeva tutti i programmatori in Scala cioè tu scrivevi che sapevi programmare in Scala che la società ti assumeva era bellissimo è un momento più unico che era un momento di popolarità di Scala incredibile quando aveva l'hype di essere il linguaggio difficile sì 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 anche però non era importante cioè tu ti mettevi a studiare Scala ti impegnavi un po' ne fai così e data parte il nostro mondo del lavoro è così non so te ma con un minimo di visibilità si ottengono un sacco di offerte di lavoro proprio che si fa anche un po' fatica di stricarsi a capire cosa uno si vuole quindi dico se oggi uno vuole ottimizzare per usare Asking in produzione ce la si fa ovviamente tutti gli altri fattori vanno un po' a farsi benedire se il tuo unico fine è quello questo va un po' a un discorso generale se il tuo unico fine è guadagnare sempre più soldi ovviamente tutti gli altri fattori vanno a farsi benedire magari su una tecnologia è meno bella e purtroppo Cobol? banalmente ci parlo proprio con le case lì a oggi paradossalmente credo che il lavoro più pagato sia il programmatore Cobol che è probabilmente una tecnologia che meno programmatori vogliono usare perché ovviamente se ottimizzi per i soldi perdi in altre è sempre un compromesso e quindi dico se vuoi utilizzare io consiglio sempre di studiare Haskell perché è appunto un free start si parte da zero impari cose nuove cose che non hai visto soprattutto se sei un po' annoiato e così ti dà ti dà una visibilità su una nicchia che non è necessariamente accessibile cioè non la vedi se non ti c'infili dentro non la vedi poi una volta che la vedi scoppi che è fatta di persone bellissime che appunto ti danno una mano che sia tutti sulla stessa barca perché quando il linguaggio è così difficile richiede così tanta energia si fa un po' comunella no? dice ah grande che ce la fai dai anch'io ieri ho capito i trasformatori monadici si condividano esatto pain e gain esatto e quindi trovi una bella comunità quindi c'è tanto da ottenere di imparare questo linguaggio se è ovvio che si viene domani e dire ah devo imparare Asker per guadagnare più soldi ti dico ma guarda fai alto uno lo fa per la passione non lo fa per ma probabilmente smetti anche di programmare se vuoi guadagnare più soldi ancora secondo me non lo so io ti dico chi sono io sono scusami si prendo un altro un altro minuto io che sono ossessionato da questa idea della mentorship appunto di avere una persona mi piacerebbe tantissimo trovare qualcuno che non viene dal mondo della programmazione quindi che non ha fatto informatico ingegneria informatica così e che decide di lasciare tutto per fare il programmatore perché c'è così tanto bisogno di programmatori che veramente secondo me ci vorranno tre generazioni prima che saturiamo il mercato mi piacerebbe tantissimo che qualcuno approcciasse perché potrei fare vedere comunque un mondo del lavoro dove ci sono tante richieste di lavoro dove ci sono contratti a tempo indeterminato dove ci sono i soldi basta lamentarsi che non ci sono i soldi quando ci sono dei lavori come il programmatore che non vuole fare nessuno ogni volta che qualcuno dice non riuscirai a stare davanti al computer tutto il giorno vieni a fare il mio lavoro vedi che ci sono dei soldi e che la questione diventa interessantissima stavo cercando ma poi chiudiamo perché quello che dici tu è importantissimo ed è bellissimo quando entra nel mondo della programmazione delle figure di mondi completamente diversi qualche anno fa adesso non mi ricordo se era nel 2018 c'è stato qua a Lione lo Scala.io che è la conferenza francese più importante di Scala una roba fighissima uno degli eventi più belli a cui ho assistito e tra l'altro uno dei talk adesso non mi ricordo che libreria portava ha sviluppato una libreria su Scala era un medico bellissimo e ha sviluppato questo tool anche di una certa complessità però era un medico è il fatto di approcciare la programmazione col suo punto di vista con la sua forma mentis perché quello che studiamo e quello che facciamo ci mutano certo cioè ragazzi noi siamo sviluppatori anche quando andiamo a fare la spesa sì è vero è così ed è stata un'esperienza veramente bella e quindi evidenzio e sottoscrivo quello che hai appena detto da quel punto di vista speriamo che in futuro ci saranno più persone che approcciano la programmazione speriamo che qualcuno decida di partire dalla programmazione funzionale vi aspetto grande cose per il futuro sono veramente positivo io continuo a giocarci grande grandissimo bene Luca per qualsiasi domanda siamo sempre a disposizione veramente no sì in realtà adesso che me l'hai detto prova a cercare la community Haskell e a provare a rompere le scatole un pochino perché credo molto nel valore della community e quello che tu dici appunto del fatto che all'interno della community si possano condividere pain e gain oltre al concetto che ti può passare una persona c'è anche tutto quell'altro valore che fa da contesto e diventa catalizzatore e energia che tu metti nella macchina durante la fase dell'apprendimento no assolutamente questi community con un'identità forte hanno più energia più difficile invece aggregare community come ad esempio io sono admin del java user group a milano e certe cose è più difficile catalizzare l'energia lì perché uno sviluppatore java ha diversissime spaccettature vedi proprio di tutto lì difficile anche trovare gli argomenti di cui parlare invece qui c'è un'identità più forte anche di newbie come li hai chiamate all'inizio di principianti dilettanti perché no tutte parole che in italiano hanno una connotazione negativa e che non dovrebbero averlo infatti io uso newbo per quello sì ma fa ridere scusami se te lo dico perché principiante dilettante in italiano vuol dire semplicemente che una persona che ha appena iniziato e tutti c'è qualcosa che non sappiamo fare come abbiamo detto prima io so fare solo questo lavoro se mi mettessi a fare qualsiasi altro lavoro sarei un principiante non succede niente si parte dall'inizio per tutti Luca è stata una chiacchierata fighissima ripeto mi piacerebbe davvero bissare la cosa magari prossimamente ci organizziamo io ti devo ringraziare infinitamente a nome mio a nome degli ascoltatori di Gitbar giusto l'ultima cosina noi abbiamo un momento che si chiama il paese dei balocchi e conduco nel paese dei balocchi ah il paese dei balocchi ah beh è facile questa è già la risposta condivido proprio quel libro di cui ti ho citato prima The Husker School of Expression di Paul Hudak un professore di fisica professore di fisica di università americana non mi ricordo quale università se fosse Stanford o altro che recentemente tra l'altro se n'è andato è stata una perdita molto molto sentita nella community Paul Hudak fa parte dei fondatori di Haskell e quel libro è una perna anche se purtroppo gli esempi non sono più aggiornabili non sono più utilizzabili uno si aspetta un professore tra l'altro era un professore di fisica mi sta tenendo il dubbio che lo fosse beh comunque era un professore di scuro uno si aspetta che un professore fisica ci sia una cosa incredibile invece il libro utilizzava delle metafore prese dal mondo dell'arte bellissimo quindi aveva un capitolo sulla programmazione grafica dove disegnava dei frattali un capitolo dove disegnava definiva l'algebra della musica io vengo io vengo dall'informatica musicale e proprio per me è stata proprio una cosa bellissima cercare di vedere qualcuno che con Haskell appunto invece del classico esempio non so il database così provava a dire non so le sette note le proprietà gli accordi e poi con i casi del mondo reale ci facevano sintetizzatori midi così quindi c'era la parte di grafica sia la parte di musica e il libro è relativamente corto perché è proprio adesso qui questo è un podcast quindi non si vede mai che lo faccio però non è uno di quei mattoni così è molto denso esatto è molto bello e purtroppo è difficile trovare online però quella è la mia perla quella è la mia perla rara Paul Hudak ha scritto quel libro lì e devo dirti la verità se scrivesse un libro mai su Haskell chissà magari lo farò mi piacerebbe fare una cosa simile non troppe pagine non troppi concetti ma spiegare i concetti alla base e spiegarli in un modo così interessante per me è stato significativo veramente bellissimo questo metteremo un eventuale link non so se lo vendono ancora io l'ho trovato su me l'ha regalato un mio collega è stato gentilissimo che l'ha rubato usato c'è un sito che si chiama Abe Books è scritto Abe Abe Books ed è un sito che ha tutti i libri usati universitari così anche libri usati così e me l'ha regalato da lì se non sbaglio l'ha anche pagato relativamente poco non so quante copie ce ne siano in giro si trova un pdf forse c'è una versione in tech in latex compilabile online di qualcuno che l'ha portato è una perla rara bello ovvio che se devi andare domani a lavorare in ASC non ti consiglierei di farlo no però sono quelle passeggiate da geek che ci facciamo allora scusa dai ne approfitto e ti cito un altro ti cito un altro libro nel caso di questo introvabile c'è il libro aspetta che lo prendo perché siamo qui in libreria sono libri di questi qua di Mattias Fellensen e Daniel P. Friedman allora questo qui è il libro loro più famoso si chiama Little Java Few Patterns bellissimo è un libro che fa incazzare le persone online perché si chiama Little Java a Few Patterns quindi la gente è convinta che parli di design pattern in Java in realtà parla di programmazione funzionale e di tipi dati algebrici però non lo sai è bellissima e non lo sai finché non studi la programmazione funzionale di tipi di dati algebrici è bellissima sta cosa veramente che bellissima è un libro diciamo un accendifuoco fondamentalmente è bellissimo è un libro che se lo legge un programmatore un programmatore Java classico dice ma che cazzo ve lo sta dicendo veramente perché programma così nessuno programmerebbe così poi in realtà scopri che questi due tizi questi sono molto famosi hanno scritto un libro su su Java hanno scritto due libri su Lisp si chiama Little Schimmer è un altro che ha un nome simile ma non mi ricordo poi c'è un libro su prologue sulla programmazione logica quindi vengono anche questi un po' da quella nicchia dell'accademia così però scrivono un libro che è totalmente diverso da ogni libro che puoi leggere anche questo è corto e introduce il concetto della programmazione funzionale è bellissimo bellissimo no me li metto tutti nelle note dell'episodio sono stati dei gingilli fighissimi io ripeto non so come ringraziarti Luca a nome mio e a nome di tutti i ragazzi è stata una chiacchierata più che costruttiva mi sono divertito un mondo quindi dobbiamo assolutamente bissare quindi niente grazie grazie mille alla prossima spero che questo episodio vi sia piaciuto sentite la mia voce un po' diversa dal solito perché il microfono ha smesso di funzionare vi prometto che adesso ci butto un'occhiata e provo a vedere qual è il problema se l'episodio vi è piaciuto mi raccomando aprite cercate gitbar col vostro client di podcast e iscrivetevi in modo da ricevere ogni settimana le novità sui nuovi episodi se poi vi è piaciuto veramente tanto beh a quel punto fate una recensione dentro l'iTunes le recensioni ci aiutano a contattare a raggiungere più persone possibile per far crescere la nostra famiglia di gitbar vi ricordo rapidamente che ci siamo tutti i giorni nel nostro gruppo Telegram lo trovate semplicemente digitando gitbar e via in fuori tra l'altro abbiamo degli sticker favolosi e nulla se invece volete contattare direttamente me potete farlo sì certo dal gruppo Telegram ma anche a info chiocciola gitbar punto it o a at brainrepo su twitter detto questo noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana qua da lì un è tutto un saluto ciao gitbar il circolo dei full stack developer una volta a settimana ci troviamo davanti a due birre e con brainrepo parliamo di linguaggi e tecniche di sviluppo web di metodologie e di strumenti immancabili nella cassetta degli attrezzi dei full stack dev edit parliamo di internet di